Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il cinema italiano, nell'ultimo periodo, ha dovuto fare i conti con gravissime perdite. In tanti sono i nomi che se ne sono andati, improvvisamente, o per malattie o per via dell'età. Il nostro piccolo e grande schermo è sempre stato invidiato, per via dei tantissimi talenti che si sono succeduti nel corso delle generazioni, dalle doti a dir poco straordinarie. Senza ombra di dubbio, la grande Milena Viucarec è una delle attrici più amate dagli italiani. Un'attrice versatile, poliedrica, che è stata capace di adattarsi alla grande i ruoli drammatici e comici. Un'artista capace di strappare una grossa risata ma anche di rigare gli occhi di lacrime, Milena, anche se i suoi numerosissimi fan hanno ricevuto una notizia a dir poco raggelante. Purtroppo sono costretti a dirle addio e la cosa è un colpo al cuore per tutti coloro che l'hanno sempre seguita. Ma vediamo perché. Milena ha recitato in più di 95 pellicole ed è stata diretta da straordinari registi come Mario Monicelli, Federico Fellini, Franco Zeffirelli e Ferzano Ospetec. Non solo teatro e cinema ma anche tv, di fatti, nel 2019, l'abbiamo vista partecipare a Ballando con le stelle. Senza ombra di dubbio, il suo nome è associato al ruolo di Pina Fantozzi, la moglie del ragioniero Ugo Fantozzi, e quello di Enrica, la nonna della fiction un medico in famiglia. Riguardo al ruolo di Pina Fantozzi, si è detta fiera di aver dato vita ad una figura anticonvenzionale, affermando. È una donna e madre capace di sentimenti. Il pubblico li ha colti rispondendo con un continuo amore. Da diverso tempo, la grande Milena ha preso una decisione molto forte, che ha gettato nello sconforto tutti i suoi fan, quella di ritirarsi dalle scene. Purtroppo, per il momento, i fan dovranno farsene una ragione ma chissà che Milena non cambi idea, sorprendendo tutti con un suo ritorno sulle scene. Staremo a vedere.